90 provvedimenti abbiamo adottato, un lavoro assai proficuo, vorrei sottolineare delle libere strategiche importantissime per le scuole, per le strade, per il dissesto per lo sviluppo economico, un grande lavoro che ho messo prima in campo come sindaco e adesso devo dare atto a tutte le forze politiche in Consiglio metropolitano di lavorare con quello spirito istituzionale che serve ai nostri territori, ai nostri comuni, una bellissima risposta di concretezza. Il 2018 ci siamo presi l'impegno di lavorare ancora con maggiore coesione, maggiore forza e maggiore velocità, vorrei però ricordare che questa è la città metropolitana che più sta spendendo in Italia, soprattutto nel comparto dell'edilizia, che sta impegnando somme dall'avanzo, assumendosi la responsabilità e che soprattutto sta su ogni questione con concretezza, tempestività ed efficacia, a cominciare dalle delibere di oggi, se pensiamo a quelle sulla scuola di Casa Micciola, per le strade dissestate, quindi davvero un segnale importante per i nostri territori. Grazie a tutti!